Si è concluso il primo Memorial a Solofra dedicato ad Orlando, Andrea e Giuseppe, tre ragazzi che hanno lasciato un voto incolmabile nella città della Concia. Ad aggiudicarsi il primo Memorial è stata la squadra degli amici di Orlando che ha battuto in finale la compagine degli amici di Zio Pietro per 7 a 3. Presente l'ex consigliere del comune di Solofra delegato allo sport, Brian Payne, giocatore anche della squadra che ha vinto il torneo. Attimi di emozioni, sorrisi e commozioni da parte dei familiari di Orlando e Andrea e Giuseppe sono stati tanti gli amici che hanno onorato con il cuore e con la presenza all'evento. Moltissimi sono giunti da Monteforte e da Fisciano. Commosso alla moglie di Andrea, Maddalena Luggiero, con la mamma di Orlando, Virginia, e Giardina e Luisa, le sorelle dell'ex personal trainer. È stato un torneo all'insegna del rispetto per la memoria dei ragazzi ma soprattutto di amicizia e si è respirato aria di grande calcio con lo spirito giusto. Già pronta la seconda edizione. Per quanto riguarda le prime azioni, il capocannoniere è stato Vicky Parmigiano in pari merito con Vincenzo Russo con sei reti, miglior giocatore Fabio Petrone, miglior portiere Raffaele Simintone, premio al giocatore più longevo del torneo a Mimmo De Maio, mentre la squadra fair play è stata la CM Futsal.